Succo al mirtillo recensione, salve a tutti utenti di youtube, brevemente questo video di oggi per fare con voi la recensione del succo al mirtillo Mirtillo pianta o meglio frutto che dà un sapore o meglio è fantastico perché aiuta per la vista, il mirtillo ha proprietà benefiche per la vista infatti aiuta chi ha problemi alla vista ed è un frutto davvero eccellente nonché meraviglioso Ripeto, il mirtillo fa bene alla vista, ha questa proprietà e va ad aiutare se non erro diciamo così il sistema circolatorio quindi fa bene anche la circolazione se non vado errato Ecco qui, fresco fresco, gelato, già imbicchierato, già messo nel bicchiere, già messo sul bicchierino, sul bicchiere di vetro ovviamente trasparente e lo vado a bere al mio 3, sentiamo prima l'odore, l'odore è quello di un succo di frutta al mio 3 andrò a berlo, 1, 2, 3, via Si sentono i pezzi di mirtillo, si sentono dei pezzi precisi, sodi, piacevoli di mirtillo di questa pianta o meglio di questo frutto che fa bene, ripeto, alla vista, fa bene all'apparato visivo Sapore gradevole, sapore veramente eccellente, dinamico e soprattutto è un liquido fresco, freddo, infatti questo frutto in questione è bello freddo Promosso sicuramente sì, un bello ottosero verde, sapore garantito non è amaro, è dolciastro Un dolce sopportabile, pienamente sposabile, con il relativo sapore forte, non che netto, deciso Grazie a tutti si percepiscono questi pezzetti di mirtillo che di fatto, de facto, vanno a confidare, vanno a offrire un sapore gradevole alla stessa bevanda in questione Ha un colore violaceo, un viola scuro, un viola scuro, per chi amare il viola troverà nel frutto nera su quel mirtillo un colore meraviglioso Grazie, iscrivetevi al canale, commentate, fatemi sapere cosa ne pensate Viva il mirtillo, frutto pianta che fa bene alla vista e al sistema circolatorio Ciao a tutti da Leandro, iscrivetevi al canale, attivate la campanella Ci vediamo al prossimo, vi ringrazio Grazie Ciao